Come coordinatore dell'equipe territoriale da Lucrezia Fossombrone sto organizzando due punti vaccinali a Calcinelli di Colli al Metauro e a Fossombrone. Inizia così l'appello lanciato su Facebook dal dottor Fabrizio Valeri che in poco tempo ha innescato un tam-tam sui social e non solo. L'Azur ha spiegato nel post pubblicato nel suo profilo non ha i fondi per fornirci personale infermieristico e amministrativi. Nemmeno l'Azur ne ha la responsabilità e anzi assicura Valeri cercano di aiutarci come possono. Non voglio far polemica, sto solo cercando infermieri pensionati o che fuori orario di lavoro volontariamente, gratuitamente, diano una mano ai medici di medicina generale a vaccinare. È l'unico modo per uscire da questo incubo. E nel giro di pochi giorni decine di persone si sono fatte avanti dando la propria disponibilità. E c'è chi, come il Consiglio di Amministrazione di articolo 32 Ollus, ha messo a disposizione i locali a punte degli alberi. Una struttura già allestita idonea anche sotto il profilo della sicurezza dei pazienti, vista la presenza di un defibrillatore e dispositivi di emergenza. L'uso della struttura, fanno sapere, sarà gratuito e il personale sarà retribuito direttamente dalla cooperativa sociale. Mi hanno sorpreso molto perché ho avuto tantissime persone che si sono proprio poste a disposizione, da infermieri in pensione, medici in pensione, infermieri che lavorano, anche semplici persone amministrative che sanno un po' di computer per scaricare tutto quello che è la modulistica per la pronotazione. Insomma, io da questo punto di vista sarei rimasto molto soddisfatto. Il problema adesso è organizzare, perché poi ci sono anche i comuni che mi aiutano molto, perché è inutile dire che il comune di Coglia e Metaule, il comune di Forsobrone, nella persona dei sindaci, io ho dei facenti a funzioni, e anche Lucrezia inizialmente, ma poi tantino quella un po' sfumata, però insomma anche il vice sindaco di Cartucetto mi aveva contattato. Ecco, ho visto che c'è anche da parte delle amministrazioni pubbliche un grande aiuto, una grande predisposizione per far partire, perché il vaccino, come tu sai, è l'unico modo per uscire da questa pandemia. Certo. Anche altrimenti non riusciamo. E oggi pomeriggio Valeri, come presidente regionale dello SNAMI, il sindacato nazionale autonomo dei medici italiani, ha partecipato ad una riunione che si è tenuta in via telematica con i vertici della sanità regionale. Durante il confronto è stato fatto il punto anche sui vaccini a domicilio per i quali è emersa una criticità, visto che le equip territoriali fanno difficoltà a gestire le somministrazioni a causa della mancata adesione di molti medici di base. E quindi ci vediamo costretti ad andare anche a fare i pazienti di altri medici. Allora abbiamo chiesto aiuto alle varie medici che sono sul territorio, quindi neoloreati, quindi gente che ancora non ha una convenzione stabile con l'ASO. E fino adesso lì c'è stato un po' di guai, nel senso che l'ASO non ha accettato molto questa presenza, perché non sapeva, non aveva un contratto, non si sapeva come gestire. Sembra che oggi, insomma, con l'aiuto dell'assessore e della dottoressa di Furia, della dottoressa Storti, forse siamo arrivati al modo di coinvolgere effettivamente tutta questa potenzialità di medici che sono sul territorio e quindi finire rapidamente i over 80 a domicilio e non i fragili a domicilio. Quando noi abbiamo fatto tutta questa categoria, già abbiamo messo molto a riparo i più fragili dalla potenzialità di questo maledetto virus. Alla conclusione che faranno in modo di poter far vaccinare e farci aiutare in maniera giusta, perché devono essere remunerati questi ragazzi, non è che possono lavorare gratuitamente, essere coperti da quello che è l'ASO e con un incarico e quindi faremo velocemente quello che c'è rimasto da fare.